Il lavoro non è una merce, ha un valore, lo sappiamo, nel mercato dei beni e degli scambi, anzi ne è elemento essenziale, perché senza l'apporto della creatività umana sarebbe privo di consistenza e di qualità. Nella filiera agricola di cui siete protagonisti riveste grande incidenza il tema della immigrazione. I lavoratori migranti sono parte essenziale della produzione agricola e delle successive trasformazioni dei suoi prodotti. Ma in alcuni casi, aree grigie di lavoro che confinano con l'illegalità, con l'ostruttamento o addirittura se ne avvalgono, generano anzitutto ingiustizia e inoltre insicurezza, tensioni, conflitti e offrono spazi alle organizzazioni criminali. Vigilare, quindi, è un dovere preciso sulle delinquenziali forme di caporalato, sulle condizioni inumane in cui vengono, in alcuni casi, scaraventati lavoratori stagionali, talvolta senza nome né identità.